Ma chi è quell'uomo delle nene? Lì in fondo Devi dici lo zoma casoso Berna? Ehi! No, ci sono le brevi A una scena di qua Sto fermo, ora mi sono stancato dalla masso Oh, c'è la cara, ti raccomando Anna, vieni, 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 vieni Vieni, 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 vieni Vieni, vieni, vieni Oh, posso fare le cose? Cioè Hai tutto qui? Non c'è questa Non c'è questa Non c'è questa Non c'è questa Questa Grazie a tutti. 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 Tutti insieme, facciamo un gioco. Tutti insieme io vi do il via e dite per tutte le mani... Musica. Grazie a tutti. 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 In tutto il mondo. Grazie a tutti. Come siamo? 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 Come siamo?